Ancora tre punti, ancora tre reti. Il Guardavalle vola e stavolta batte il Capo Vaticano con le firme di Stagliano, Fodero e Mammolenti. Insomma, ancora in rete il neacquisto gelorosso che sembra essere la marcia in più per la formazione di Vincenzo Ritano. Ora al secondo posto in classifica, un solo punto dalla capolista Branca Leone. Passiamo alle immagini salienti della partita. Finale di primo tempo, opportunità più ghiotta per i gelorossi. Calcio di rigore concesso per atterramento in area di Fodero, Mammolenti si fa ipnotizzare da Lorenzo. Poi gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di De Pascali. Passiamo con le immagini alla ripresa, che riparte con il Guardavalle che non demorde. Mister Ritano carica i suoi e i risultati si vedono nei primi dieci minuti subito i due gol per i gelorossi. Prima Stagliano conclude nel migliore dei modi un'ottima iniziativa dei padroni di casa con questo tiro imprendibile. Dopo 60 secondi, Fodero, in maniera fulminia, insacca invece sull'invito di Stagliano. 2-0 quindi dopo nove minuti del secondo tempo per i gelorossi. E però Levec, al ventesimo, a riportare in partita i suoi, realizzando un calcio di rigore. Nel finale si rifà Mammolenti, che si prende la responsabilità dal dischetto per un penalty assegnato ai gelorossi. Stavolta il calciatore di casa realizza per il definitivo 3-1. Nel finale Capovaticano in nove uomini per l'espulsione di De Vita. Mister Ritano, il Guardavalle chiude questo girone d'andata con un secco 3-1 sul Capovaticano, però possiamo dirlo, non è stata una gara entusiasmante. No, hai perfettamente ragione. Non abbiamo giocato come le ultime partite. Soprattutto il primo tempo abbiamo giocato male. Questo Capovaticano si è dimostrato una squadra ben messa in campo, ci ha messo in difficoltà soprattutto il primo tempo. Il secondo tempo forse un attimino ci siamo ripresi. Abbiamo giocato, come sappiamo, velocizzando palle a terra. La loro inferiorità ci ha aiutato, però è stata una partita, come hai detto tu, non è stata per niente facile. Il risultato è 3-1, andiamo avanti, l'importante era vincere. Un riassunto di questo giro d'andata per il Guardavalle è soddisfatto? Sì, perché gli obiettivi della società erano i play-off. In strada facendo ci siamo trovati a lottare per le prime posizioni e la società ha ritenuto opportuno di poter intervenire sul mercato, di lottare insieme alle altre squadre per cercare di vincere questo campionato insieme al Seterna, al Bocale, a Tarionavesi, che sono squadre del Brancaleone. Quindi sono soddisfattissimo perché finire il girone d'andata a un punto dalla capolista penso che sia una cosa importante. Mr. Scheriti, 3-1 che la dice tutto sul risultato, ma la sua squadra ha giocato bene. Niente, che noi venivamo qui e perdevamo ci può pure stare, perché conosco già i calciatori, alcuni erano in essenza l'anno scorso e li ho affrontati. È una bellissima squadra, ma perdere 3-1 in questo modo, questo non mi va giù. Sicuramente per mancanza di carattere della mia squadra, ma anche per un po' di errori arbitrali. Ma non è che hanno arbitrato a favore, sono inesperti questi ragazzi, non possono fare esperienze in promozione, che vadano a farle in seconda categoria, in prima. E non è la prima volta che ci succede. Dove ci sta che noi perdiamo qui? Perché i valori ci sono, la differenza c'è, ma perdere così non va bene. Tutto qua. Questo era un arbitro comunque esperto, non è un no? No, no, non mi sembra fosse così esperto, sinceramente. Da quello che ho visto oggi non lo conosco, però è sprovveduto. Nel senso che non mi può far uscire in 5 minuti un ragazzo per somma di ammunizione. Vuoi dare il rigore, non so se c'era, ma non lo fare uscire. 5 minuti prima l'avevi ammunito. Per una protesta non so che tipo di protesta era. Poi vabbè, poi la partita finisce. Cioè qua noi dovevamo fare una partita di contenimento e ripartire. Non l'abbiamo più potuto fare perché eravamo in 10. Poi in 9 non ne parliamo proprio. Alla ripresa del campionato quale sarà? Alla ripresa del campionato rinforzi assolutamente. E contiamo di ripartire subito bene perché i ragazzi ci sono. Sono giovani, serve a qualche anziano. In difesa, centro campo e attacco. Uno per reparto ce ne serve. Che la dirigenza mi ha promesso. Altrimenti non aveva affrontato quest'altra avventura. Grazie.